5, 4, 3, 2, 1, via D4 più 200 A6 al buco stai largo A in D6 stretta allunga 100 e al cartello a destra A4 più stretta al cartello sfiora D e A veloci e A5 stretto e D4 più su ponte in sfiora A rail attenzione D1 gira 100 stai largo a sinistra A D6 lunga 50 e al cartello destro sfiora D e A e D veloce stretta e attenzione a 1 gira D4 corta e A3 più e D3 più in A4 più e sfiora D al muro e A D veloci chiude 3 più al cartello sta largo a rail subito D1 stretto in sfiora D e A veloci e D3 tieni e A3 tieni e D3 stretto 50 A3 più in D2 più stringe A3 più in D2 più stringe e D3 più in D2 stringe 50 galleria dritta e sfiora D veloce a rail e A2 più e D2 più 70 A3 più e D3 più stai largo a rail e attenzione a 1 chiude pulito pulito sfiora D e A2 più e D3 più e sfiora A a rail e D4 lunga e D4 lunga tieni e A2 chiude e D3 più e D3 più tieni 70 sfiora D e A4 più stringe tieni in D4 più stringe 50 A2 più 50 D2 chiude tieni e A4 lunga stringe tieni e D5 più corta V200 attenzione D3 più D3 più 70 D1 gira pulito A6 lunga 100 a rosso destro A4 più D6 lunga 70 A4 lunga tieni attenzione sfiora D e subito 1 gira pulito sfiora A D5 più corta 150 cartello rovescio D5 lunga 100 e attenzione al verde stacca D1 chiude A5 lunga 100 sfiora D e A5 più e sfiora D 50 attenzione rosso 1 chiude accenno leva D5 in D4 più e sfiora A 50 D6 in A5 lunga chiude 4 tieni A5 lunga D4 tieni 50 D4 più tieni e A5 corta e A5 tieni e D3 più lunga stretto D3 più lunga stretto 70 attenzione destra 1 leva 70 A3 più tieni 70 D4 più e A3 lunga 50 tieni gira e D3 più apre 150 a 1 pulita D6 al cartello A6 più 100 a 4 tieni 50 attenzione D1 gira pulito a 4 tieni attenzione D1 gira pulito sfiora A e D4 più 100 attenzione 1 gira leva accenno come vai 100 sfiora D veloce e A4 tieni stringe e A4 tieni stringe sfiora D 50 attenzione D1 gira pulito 50 sfiora A veloce tieni e D3 più e sfiora A 50 D5 più lunga 100 tieni a rail attenzione 1 gira pulita a 6 lunga 150 in sfiora D e attenzione a 3 tieni corta a 3 tieni corta e D5 più lunga 100 vai 50 50 sfiora A e D veloce tieni attenzione a 4 tieni corta e subito D1 accenno leva D4 più e sfiora a muro veloce e D5 lunga in A5 lunga 50 chiude 4 più tieni in D3 più lunga e A3 più 100 sfiora D a rail attenzione a 1 gira accenno leva 200 a rosso a rosso D5 corta e A3 chiude lunga 50 tieni rail in D5 più tieni sfiora a rail e D6 lunga tieni e A4 lunga tieni e D5 più tieni a 4 lunga tieni e D5 più tieni 50 sfiora D corta e A4 tieni attenzione D1 gira D4 più e sfiora veloce 50 a 4 tieni più corta e sfiora D attenzione a 1 gira 50 di più corta e sfiora D e A4 lunga 50 tieni in D3 lunga tieni e A4 più apri 5 in galleria e D5 e D5 stai largo a rail e sfiora D roccia in A3 lunga 50 più in D6 più 50 a 4 corta e D4 più in sfiora A e D veloci 150 al cartello rovescio sfiora D e A6 lunga 100 attenzione segui corda ritarda a 3 lunga chiude e D6 corta 50 sfiora D e A5 lunga tieni rail e D3 più chiude e A5 lunga 50 tieni rail attenzione D1 gira 50 D4 più e A4 più tieni e D6 150 a 5 lunga 100 attenzione galleria D2 chiude più D2 chiude più e A3 più 100 ai cartelli a 6 più in D5 lunga due tempi tieni e A5 lunga 50 tieni e sfiora D e A6 più sfiora D e A6 più in D6 più in 300 di D6 cortatieni di D6 cortatieni e A5 più lunga 150 attenzione D4 più 100 D4 più 100 100 100 ai cartelli ritarda e al buco rail a 5 più lunga tieni 200 100 sfiora e D4 corta più e D5 corta più 150 attenzione D3 più 200 di D6 e Sfiora T e A6 più corta 50 corta questa A6 lunga più 100 200 200 ai cartelli destri A6 lunga 100 chiude 5 a rosso va fin fondo che se fine prova in fondo